Il posto per figlio del mondo Tu asoi la storia di questa villa Insieme siete forti Forti, sì Uno squalo Vaffanculo a te, io squalo Cerchi di non crescere troppo altrettamente Lì è per tutti essere uno squalo Che devo fare? Voglio diventare come tuo padre Papà! 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 Benvenuto da noi, benvenuto Edoardo Pesce Benvenuto Edoardo E benvenuto a Davide Gentile Grazie Benvenuto a tutti Edoardo Sbaglio sempre, è colpa sua comunque Vabbè, poi ci torneremo Allora siete qui per presentare Denti da squalo Che è un film che uscirà nelle sale italiane il prossimo 8 giugno Allora, è una fiabba dark C'è tanta roba dentro C'è il dramma, ma c'è pure un bellissimo rapporto d'amicizia C'è l'avventura Ci stanno tante cose Ci sono anche i sentimenti Allora, io comincerei ovviamente dal racconto del film Di solito lo faccio io, ma c'è il regista Quindi do a te la parola, mi sembra anche giusto e doveroso Raccontaci un po' di cosa parla questo film Soprattutto come ti è venuta l'idea anche? L'idea non è venuta a me Diciamo che parte da una sceneggiatura che è nata nel 2014 Quindi ha quasi dieci anni questo racconto E come le grandi storie poi vengono lasciate spesso nei cassetti Ed è stata riesumata nel 2020-2021 da Gabriele Mainetti Che aveva i diritti E insieme ai sceneggiatori mi hanno contattato per chiedermi se ero interessato E abbiamo dialogato per diversi mesi per arrivare proprio a un punto E a una visione comune del film E da lì siamo partiti con questa produzione molto ambiziosa Perché come dicevi tu prima il film ha tante anime E riuscire a farle stare tutte sotto lo stesso cappello È stato sicuramente interessante e ambizioso da parte di tutti Ed è appunto la storia di questo ragazzino Walter Che perde il padre da pochissimo tempo E quindi vive un'estate molto complicata Fino a quando girovagando nel litorale romano si ritrova in questa villa incredibile Una villa abbandonata Il film inizia subito dopo il funerale del padre Lo vediamo sia lui sia la madre Virginia Raffaele in spiaggia A vestiti di scuro a contrasto rispetto agli altri bagnanti E appunto Walter prende la bici Si avventura nel litorale romano E finisce davanti a questa villa abbandonata Scavalca E all'interno della villa trova questa piscina Dentro la quale c'è uno squalo E quindi da lì nasce poi Questo è proprio l'inizio del film Nasce questa curiosità verso questo squalo Che poi si tramuterà in accudimento E poi insomma si vedrà chi guarderà il film Allora in questo film c'è appunto un viaggio al contrario La crescita di questo bambino non avviene in un modo naturale Non c'è un salto immediato Ma questo bambino ha proprio necessità di fare tutti i passi Per raggiungere l'età adulta C'è la propria maturazione E in questo procedimento, in questo processo L'ultimo step, quello più complicato È rappresentato proprio dal Corsaro Che è il villain della storia Che è questo cattivo Che è il proprietario di questa villa Raccontami un po' il tuo personaggio Io sono stato onorato di fare questa partecipazione E poi ho un paio di scene molto belle E quindi io rappresento un pochino Quella parte anarchica Sai un po' di libertà Che può affascinare gli adolescenti In questo caso appunto è anche un fuorilegge E quindi sai come tutti I ragazzini sono affascinati dagli indiani Quindi più che dai pirati Ecco è un pirata Però rappresenta quello Rappresenta anche lui Un po' una forma predatoria Della società di oggi Che ti spinge a dire Tira fuori i denti Devi essere aggressivo Devi essere un po' Squalo Esatto, un po' squalo Poi l'abbiamo costruito insieme Abbiamo messo delle lenti nere All'inizio poi ho questi dottor Schulz Che sono molto belli Molto pericolosi Quello è un omaggio un po' agli anni 80 E quindi ecco ci sono queste due anime Il personaggio che interpreto io Ha la funzione di essere Quella parte che ti dice Di farti valere nella vita In maniera un po' prepotente Invece Walter poi sceglierà Sceglierà fortunatamente un'altra strada Canta pure il tuo personaggio Canta pure bene Vabbè tu sei il cantante Ma quella l'abbiamo improvvisata Perché era Cioè Perché lui avevano scritto Comunque Una Una Dei diversi Sono di Rodari Sì E quindi ho detto Ma facciamo cantare Tante oster mare Capito Ste cose qua Ti ha ispirato diciamo Sì Ah quindi improvvisata Quella scena diciamo Un po' Sì eravamo preparato Un po' la canzone Un po' Prima le ho fatte sentire Dico tanto Facciamo che la canto Così almeno Come fanno i pirati Il mare Per sconfiggere la paura O le onde Però è molto bello Un ragazzino bravissimo C'è questa storia appunto Che riguarda Walter Questo ragazzo tra l'altro bravissimo Un attore meraviglioso Che è un po' Deve risolvere un po' Di questioni Soprattutto nei confronti Del proprio rapporto Con il padre Il padre Non so quanto posso dire Ho sentito che hanno Già detto abbastanza Quindi insomma Lo dico Poi al massimo tagliamo Tanto questo Bello della differita Di andare registrati Il padre Era un ex criminale Che però a un certo punto Ha un percorso di retenzione Quindi decide di cambiare vita L'ha interpretato Era amico del cuore Di questo corsaro E poi dopo appunto Lui decide di Di dividersi Hanno preso strade diverse Diciamo E Walter Non sa bene Da che parte andare Giusto? Certo Sì Diciamo che come Spesso accade In quella fase di età Preadolescenziale In periferia in particolare Ma mi sento dire Un po' ovunque In questo Preciso momento storico Poi i ragazzi Si trovano davanti A questa scelta Delinquere Perché è la scelta Forse più facile Più immediata Oppure invece Rimboccarsi le maniche E magari fare un lavoro Più umile E meno redditizio Rispetto alla Micro criminalità In cui poi entrerà Anche Walter E il padre Ha fatto la seconda scelta Dopo aver iniziato A delinquere Si è deciso A cambiare vita Perché appunto Aspettava un figlio E questa cosa Viene raccontata Poi nel film Ma agli occhi Di un bambino Ovviamente questa è una scelta Fallimentare Un po' innocua Anche come Come visione Della vita E nel suo percorso Nel suo viaggio Durante Durante queste state Prima ripudierà E poi accetterà La scelta del padre La presenza dello squalo Noi dicevamo Che è una fiabba Questa Che ti permette Proprio di creare Questa trama Un po' sognante Se vogliamo Soprattutto il rapporto Tra il ragazzo E lo squalo Che è un rapporto Un po' atipico Se vogliamo Perché noi siamo Abbiati Che vede Sul grande schermo Squali Che divorano le persone Invece qua È un po' diverso Giusto? Sì Beh lo squalo Sin dall'inizio Con gli scengitori Con Gabriele Mainetti Ci siamo prefissati L'idea che Sarebbe stato bello Che lo spettatore Poi vedesse In questa metafora Quello che voleva O comunque attribuisse Allo squalo Un significato personale Che poteva essere La paura Poteva essere La violenza Poteva essere Il padre stesso E quindi C'è questo rapporto Sì con Con Walter Che inizia Come ce lo si aspetta Con paura e terrore Durante la prima visita In piscina E il primo bagno In piscina E poi si tramuta Appunto in curiosità E poi in accudimento No? E come nel trailer Vedrete C'è anche Questa stanza sotterranea Dal quale vedere Poi lo squalo Da sott'acqua Che rappresenta Un po' la psiche di Walter No? La sua Le sue paure No? Che a un certo punto Diceva di affrontare Ed entrare In questo Seminterrato Allora Chiedendo a Edoardo Pesce Se lui ha mai pensato Di magari Di mettersi uno squalo In piscina Nella vita reale Non lo so Se magari Può essere una cosa De potere Molto hollywoodiano Se vogliamo Come cosa Già faccio pesce di cognome Quindi No vabbè Ma vabbè questa Però Però Quindi Diciamo una cosa Acquatica Se vogliamo No volevo chiedere Le scene dello squalo Come sono state girate Tutte in digitale C'era uno squalo C'era uno squalo Come sono state fatte Non mi fa Favgast Questo è il mio Complimento Che mi hanno fatto Anche dopo la proiezione Perché non si capisce Ma lo squalo è vero? Sì Assolutamente No Ovviamente no Abbiamo anche ragionato Sulla possibilità Di avere uno squalo vero Per questioni economiche Anche questioni di realismo Perché ci hanno detto Che ci sono degli squali erbivori Ma non ci fidavamo Sono squali da terra Squali da terra Eh sì Però non ci fidavamo A mettere un bambino Dentro una piscina Va a mettere un bambino Dentro una riscola E non avevamo il backup E quindi no Abbiamo optato Per una tecnica mista Che fosse sia Un animatronic Quindi un robot Diciamo Da mettere in acqua Che non era mai stato fatto In Italia Quindi portava con sé Delle problematiche tecniche Ma anche dei rischi Produttivi ed economici E poi di affidarci Sicuramente alla CGI Giostrata magistralmente Da Blackstone Che abbiamo Che ha creato Il modello dello squalo Dal quale poi è stato stampato Lo squalo 3D Da poi animare in acqua Quindi ecco È stato lavoro Tra diverse persone Diverse menti Per riuscire a fare Qualcosa Che sulla carta Sembrava proibitivo Perché nessuno L'aveva mai fatto In Italia In Italia In America Ci aveva fatto con uno Che si chiama Spielberg Insomma Uno di passaggio Diciamo Senti Allora Complimenti anche per la location Perché insomma La villa del Corsaro Non è male È la villa di un principe Di un conte Di un conte Come l'avete scopata Ma dove sta esattamente La location sta Tor San Lorenzo Quella è la Tor San Lorenzo Che è una Mi hanno detto È una Proprio Tor San Lorenzo Quella La torre Enorme Io la cercavo inizialmente Anche non rettangolare Perché rischiava di annoiare Un po' visivamente Il racconto E poi in realtà Mi hanno proposto Questa villa Che aveva al suo interno Questa piscina Che abbiamo un po' Ricostruito Grazie alla scenografia E presentava questa torre Che ci sembrava Insomma Un po' Un peccato Perdere E quindi L'abbiamo inserita Successivamente In sceneggiatura Inizialmente era una villa Classica Però ecco La Tor San Lorenzo La torre Che comunque appunto È molto presente nel film Ci sembrava veramente Una bella occasione Anche di rappresentare Un po' Roma E la romanità Per l'architettura E per quello che significa Tor San Lorenzo Per i romani Ci avete fatto una bella festa De fine De fine riprese No Non ci siete riusciti Non si parla Non si parla Di cose Off Ok benissimo Allora Chiudo Questa chiacchierata con voi Grazie di essere stati I nostri ospiti Io ho fatto una promessa A Edoardo Non si parla di calcio Soprattutto queste giornate così Però io vi faccio Una domanda Un po' più generica Un personaggio come Murigno Non meriterebbe un film A parte Un film da protagonista No no Un film proprio Sulla carriera di Murigno Su quello che dice Sulla personalità di Murigno Ma certo E' un po' appilata pure Poi io sono milanista Quindi Murigno E' sempre stato un po' Un avversario Alla forse lo dovevo chiedere Edoardo Esatto Però ecco Che potrebbe interpretarlo Però magari anche C'hai mai pensato? No per carità Rifiuteresti? E' troppo alto E' troppo alto E' troppo alto Non lo so Sono C'ho meno fortuna No non si dice No 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 ma magari Che scherzo Io Che leviamo proprio Chiudiamo Che qui si sa Siamo indifferita Però oggi è il 30 Benissimo Comprano di mio padre Tra l'altro Che fa 70 anni Faccio gli auguri Tanti auguri Aspettiamo domani Fesseggiamo domani La cena Il compriano di papà Benissimo Allora facciamo così Ci facciamo una promessa Ne parleremo Successivamente Che è la cosa migliore Edoardo ci racconterà Tutti i dettagli Del suo prossimo Morigno Che interpreterà il cinema Grazie davvero Di essere stati I nostri ospiti Ricordiamo L'appuntamento Nei cinema Denti da squalo Dal prossimo 8 giugno Tra l'altro Scusami Il resto del caso C'è Virginia Raffaele Claudio Santa Maria Claudio Santa Maria Il bambino che si chiama Che fa Walter Il protagonista Che è il suo protagonista E Tiziano Menichelli Che è il nostro Walter Grazie davvero E alla prossima Un saluto a tutti Ciao A presto